Ciao raga, benvenuti o bentornati sul mio canale, come va? Allora, se non mi conoscete, io sono Jessica Norcia, ho 26 anni, tra un po' 27 e ho aperto un canale YouTube per condividere tutte, come dire, i miei hobby, tutte le mie passioni ma soprattutto per avere contatto con la gente ed è per questo che oggi questo video nasce per voi è un regalo, una sorpresa, spero sia gradita, per tutte le ragazze o i ragazzi che mi sostengono, che mi supportano che ormai avete anche imparato a capirmi, conoscete i miei gusti, sapete quello che mi piace io sono davvero davvero contenta perché più che condividere con voi, ormai è veramente una community seppur piccola, ma è una community quindi questo video vuole essere un po' di supporto e d'aiuto a tutte le ragazze o i ragazzi con i capelli ricci che hanno dei problemi, lo so perché mi scrivete quotidianamente sul mio social, su Instagram Jessica ti prego aiutami allora, io ho pensato di aiutarvi in questo modo facendo una consulenza gratuita quindi una consulenza in cui io e voi ci vediamo in una videochiamata e parliamo mi raccontate tutti i vostri problemi quello che non va con i vostri capelli mi fate vedere tutti i prodotti che usate io vi consiglierò qualcos'altro a livello di prodotti parliamo, discutiamoci scambiamo delle opinioni e a me fa veramente piacere aiutarvi spero che voi la troviate una buona idea non è detto che questa sia la prima e l'ultima volta però è tutto da vedere in base a come va questa volta allora, partecipare a questa consulenza gratuita è molto semplice io, allora, sceglierò tre persone in base al miglior commento che mi lasciate sotto questo video in cui mi spiegate il motivo per cui io devo aiutarvi o perché mi sostenete o perché vi fidate di me quindi io sceglierò tre commenti sotto questo video mi raccomando, dovete essere iscritti al mio canale mettere mi piace a questo video così che io capisca che volete altre consulenze ovviamente sempre gratuite lo ribadisco perché non faccio niente a pagamento lo faccio con molto piacere per aiutare e per aiutare la mia community detto questo, una cosa in più che vi chiedo è quello di fare uno screen di questo video in particolare ora fatto e di taggarmi su Instagram così che poi io nei messaggi vi riconoscerò e so con certezza che voi mi seguite sia su Instagram che su YouTube se non avete Instagram ok, lo capisco mi raccomando però quello che è importantissimo è il commento ve l'ho detto, io lo sceglierò sceglierò tre commenti fate vedere come va questo mese questo video durerà all'incirca 15-20 giorni poi se mi seguite su Instagram io ve lo dico o magari lo lascerò nell'info box scritto e niente raga, spero che l'idea vi piaccia vi mando un bacione enorme mi raccomando se conoscete ragazzi o ragazze che hanno bisogno di consigli per capelli ricci sapete che non si trovano bene e soprattutto che utilizzano la piastra pur essendo ricce consigliate questo video così da raggiungere un bel tot e continuare con le consulenze gratuite detto questo ti lascio al prossimo video ti mando un bacione ci sentiamo ciao grazie